Il Ponte Vomano ha celebrato e ricordato la propria storia legata al calcio, iniziata nel 1977. 40 anni di passione, sacrifici e soddisfazioni in giallo-nero, vissute senza mai accusare battute a vuoto, arrivando a rappresentare un punto di riferimento nel mondo delle società dilettantistiche e non solo di quelle terramane. Tante le figure sportive che in 40 anni hanno legato la propria storia ai colori gialloneri, così come tanti sono stati gli avversari affrontati sui campi. Degli ultimi 20 anni di storia, il Ponte Vomano ha giocato gli ultimi 17 consecutivamente nel campionato di promozione. Una serata da brividi dove sono intervenuti tutti, ex protagonisti come Piero Dorazio per decenni sulla panchina giallonera e i vari Marco Capparella e Fabrizio Catelli, ex professionisti che hanno impreziosito, con la loro militanza per qualche stagione, il prestigio del club. E poi il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, ma anche Luciano Campidelli, presidente del Teramo, ma avversario al tempo in cui era la guida del Canzano. Tra gli avversari di sempre anche il presidente della Virtus San Nicolò Teramo, Salvatore Di Giovanni. Una sala circondata dalla storia del calcio di una realtà che si conferma ogni anno, dalla prima borsa ai tanti volti, immortalati da foto e vecchi articoli di giornale. Gran cerimoniere Gabriele De Simone, oggi dirigente della federazione, ma vera e propria memoria storica di tutti i 40 anni. La società è nata nel 77, all'inizio ero giocatore, ero giovane, quindi giocavo, dopodiché nell'83-84 sono entrato a far parte nella dirigenza, fino a ieri, perché oggi dirigente della federazione, non posso far parte del direttivo, però do sempre una mano e quindi ho organizzato anche questo evento perché ci tenevo a fare questa festa, perché l'avevo dedicato al primo presidente, che oggi purtroppo non c'è più e quindi ho voluto organizzare questo evento. Questa è una società che ha attraversato 40 anni di storia, attraverso le varie categorie, ma è una società che ha però nel suo DNA la continuità, cioè quello che ha iniziato 40 anni fa non è ancora finito. No, certamente siamo penso una delle società più longevi d'Abruzzo, perché se pensiamo negli ultimi 20 anni siamo stati 17 anni in promozione e non abbiamo avuto mai cali particolari, se non qualche piccola retrocessione in prima, ma dopo subito tornati in promozione. Siamo, mi sembra, la ventitresima società più vecchia d'Abruzzo e non è poco per una piccola frazione del Comune di Teramo. Come memoria storica, insomma, qual è il momento che ricordi con più piacere e quello magari in cui invece era un po' più tutto buio? Ma sinceramente io sono uno molto positivo, non mi abbatto nei momenti di difficoltà e non mi esalto nei momenti di gloria, diciamo. Quindi è stata una normale routine, ma ricordo benissimo dei tornei organizzati a livello nazionale, quando circa 20-25 anni fa ha organizzato un torneo di calcio categoria allieva a livello nazionale e è venuto qui a giocare il famoso, adesso allora era un ragazzino, Cassano, e tanti altri bei ricordi come portare i ragazzini a giocare a Trigoria con la Roma. Avevamo fatto l'affigliazione con la Roma tramite Bruno Conte, per cui insomma tante belle soddisfazioni. Nella serata della propria storia il Ponte Romano guarda però con fiducia al futuro. La stagione 2017-2018 è partita molto bene e le ambizioni sono decisamente presenti nelle intenzioni del Presidente. Oggi è una bella giornata per tutti quanti, specialmente per quelli che si sono impegnati e hanno portato avanti questa società nel miglior dei modi, perché come sappiamo il Ponte Romano più che essere una società calcistica è una realtà. Quanto è difficile però fare calcio a queste categorie nel 2017? È difficile perché come tutti sappiamo ci sono varie difficoltà. La prima è quella economica perché più passano il tempo e più cerchiamo di respirare. Però comunque è una soddisfazione personale perché quello che si fa non va mai sprecato e cerchiamo di trasmettere questa passione a tutti. Una serata importante, tra l'altro in un momento della stagione che vi vede protagonisti, secondo posto in classifica, quanto è ambizioso il Ponte Romano? Quest'anno siamo partiti bene rispetto all'anno scorso che abbiamo un po' faticato. Sono state varie scelte giuste, sbagliate, come vogliamo, però comunque quest'anno l'organico che c'è è abbastanza promettente.